Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornato dopo un po' di tempo che mancava dai nostri studi Maurizio Franceschi, direttore della Confesercenti Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a te. Abbiamo il piacere di averlo perché tra le tante cose che sta facendo con la Confesercenti a livello regionale, ma poi anche territoriale, parliamo di un programma molto interessante che verrà realizzato, verrà al suo inizio, un po' più avanti nel tempo, ma che in realtà dà degli spunti e suggerimenti molto importanti per valorizzare il territorio e le attività economiche produttive di un'area molto molto particolare dal punto di vista culturale, architettonico, artistico di grande pregio. Purtroppo sottovalutato, meno conosciuta rispetto ad altre, che però fa parte dell'area vasta del territorio metropolitano di Venezia e quindi andiamo a collocarci in quel territorio lì. Abbiamo parlato più volte dell'incremento turistico anche col presidente di Conf Turismo Veneto dell'area veneziana, ma i dintorni come stanno e soprattutto la valorizzazione dei centri minori anche sotto il profilo del consumo di questo territorio, che esiti sta dando? Allora, l'iniziativa si chiama la Terra del Tiepolo. Qual è precisamente la Terra del Tiepolo ed entriamo poi nel merito della situazione? La Terra del Tiepolo coincide con i sette comuni del Miranese. È una realtà confinante con il comune di Venezia e con la riviera del Brenta. Diciamo perché abbiamo voluto promuovere questa iniziativa che si terrà il 15 di aprile a Cadella Nave a Martellago. E' ormai consapevolezza da parte di tutti che stiamo vivendo una fase economica estremamente difficile da 2008 ad oggi e tutti i settori sono fortemente in crisi. Io vi do un dato. Nel primo bimestre 2016 nel Veneto abbiamo perso mille attività commerciali, cioè mai dal 2008 ad oggi abbiamo avuto un saldo così negativo. 1.300 attività hanno chiuso, 300 attività circa hanno aperto. Per dire che questo settore è un settore che sta soffrendo la crisi più di altri. Viceversa c'è un settore invece quello turistico che in questa difficile situazione regge meglio e più di altri. Quindi è un settore sul quale dobbiamo puntare, sul quale bisogna rivolgere le nostre attenzioni sia come istituzioni regionali, enti locali, ma anche come associazioni di categoria. Sul veneziano c'è un dato molto significativo. Le presenze sono circa 34 milioni. Certo contribuisce molto il comune di Venezia, Venezia città antica, e poi abbiamo le spiagge dove dal Cavalino a Jesolo a Eraclea a Chioggia a Caorle c'è una presenza rilevante di turisti italiani e stranieri che vengono da noi. La domanda che ci siamo fatti è se stiamo utilizzando, e uso questa parola, sfruttando fino in fondo tutte le opportunità che il turismo può offrire e il nostro territorio può offrire. E la risposta ovviamente è no. Tenendo conto che i turisti sono sempre più alla ricerca di località e di luoghi tipici, meno conosciuti, se vogliamo anche meno frequentati, dove alcune valenze come l'enogastronomia, il paesaggio, la bellezza delle nostre cittadine sono dei valori che noi abbiamo e possiamo offrire. Solo che fino ad oggi non c'è stata la capacità da parte di questi territori di promuoversi nel mondo, diciamo, nell'offerta turistica. E in particolare il miranese è un'area che ha terra dei tiepolo, è stata definita, è un'area che ha, secondo noi, tutte le caratteristiche per porsi nel mercato, diciamo, del turismo. Ovviamente per fare questo vanno coinvolti tutti i soggetti che operano, lavorano e amministrano quel territorio. Quindi il 15 di aprile noi abbiamo invitato tutti i sindaci della terra dei tiepolo, abbiamo invitato le proloco che svolgono sempre un ruolo molto importante e significativo su alcune iniziative, alcune delle quali hanno una valenza nazionale. Pensiamo solamente al gioco dell'oca di Mirano e al palio di Noale. Quindi iniziative che sono conosciute a livello nazionale. E apprezzate, tra l'altro. Allora, noi dobbiamo cercare di mettere insieme un po' tutti questi soggetti in un'unica regia. e dire, se noi abbiamo tutte queste cose, sono tutti elementi che possono costituire un prodotto turistico. Siamo capaci di diventare una realtà turistica, quindi ospitale, e quindi attrezzarci per dare le risposte al turista? Possiamo fare tutto questo da soli o è opportuno che guardiamo vicino a noi? Perché oggi la competizione è sempre una competizione d'area. Più si è grandi, ovviamente con una omogeneità di offerta e meglio è. E quindi noi pensiamo che l'obiettivo, una volta raggiunta una identità e una consapevolezza diffusa da parte di tutti i comuni del Miranese, di essere area turistica, di collegarsi strettamente con la riviera del Brenta, che invece è un'area che ha già una sua identità, diciamo, turistica, ma che anche loro, fino in fondo, quest'area non viene utilizzata in maniera ottimale, diciamo. Allora, noi il 15 vogliamo mettere assieme un po' tutti i soggetti, quelli del Miranese e quelli della riviera del Brenta. A quelli del Miranese vogliamo dire, vogliamo cominciare a ragionare per far diventare quest'area definita, dal punto di vista turistico, terra del Tiepolo, un'area turistica? Sì. Comuni della riviera del Brenta. Pensate che sia opportuno che ci mettiamo un po' assieme? E la risposta so già sarà sì, perché già abbiamo lavorato. Regione Veneto. Vuoi riconoscere quest'area come un'area di destinazione turistica e che quindi deve superare in qualche modo i vincoli della legge che prevede, che per diventare un'area riconosciuta dalla regione come destinazione turistica bisogna avere almeno un milione di presenze? Perché questo dice la legge. Ma superabile dal fatto che quando si fanno le leggi, a cui noi abbiamo anche partecipato in modo molto attivo, a volte alcune cose non vengono considerate tutte fino in fondo. e quindi qui dobbiamo apportare una modifica alla riunione, all'incontro, alla giornata. È invitato anche l'assessore regionale al turismo Caner e a lui manifesteremo in qualche modo questa esigenza e sarà la manifestazione che emerge da parte di tutti i soggetti di queste due importanti aree. Allora c'è il coinvolgimento istituzionale che è fondamentale per fare dei passi, però c'è un'esigenza del territorio e quindi degli operatori, anche dei commercianti, degli esercenti, di tante entità che operano e convergono su questo territorio. Lei ci tratta della riviera del Brenta e sappiamo che a seguito anche di eventi che prescindono dalle persone ha subito gravemente delle ripercussioni anche per quel che riguarda l'indotto turistico e comunque potrebbe fare molto di più. Stiamo parlando della riviera del Brenta che come lei ha citato è nota. Cosa dovrebbero fare i piccoli, quindi gli operatori del settore? Devono metterci anche del loro? Cioè ci vuole una predisposizione diversa? Ci vuole un cambiamento? Qualcosa occorre fare? Oppure, come anche molti dicono, è comunica poco per varie ragioni e quindi non è conosciuta, non è meta, scelta come altre cose? Le terme si sono rilanciate, qualcosa hanno fatto, pur nel loro vago muoversi, però qualcosa hanno fatto e hanno avuto dei risultati dei più importanti. Questo territorio, secondo lei, partendo dal basso, visto che lei opera tra l'altro con gli operatori del settore, che cosa... Ma lì bisogna fare due cose. La prima o la seconda, dipende, a quale dare maggiore priorità. Ovviamente bisogna comunicare per far conoscere i luoghi e le eccellenze, diciamo, di un'area come quella di cui stiamo parlando. Ora, la comunicazione, fino ad oggi, è sempre stata una comunicazione fatta da singoli. Ognuno organizza il suo sito internet, il suo portale, dell'albergo particolare. C'è qualche tentativo di qualche soggetto, proloco comprese, che hanno un loro sito, un loro portale, ma è ovvio che nessuno di questi può pensare di incidere davvero nella comunicazione globale che c'è. Quindi bisogna anche qui, come si dice, mettere in rete quello che c'è, fare il sistema, far comprendere agli operatori, ma anche ai soggetti pubblici, che la promozione deve essere unica. Tutti devono partecipare. Tutti devono partecipare e mettere dell'oro. Quindi crederci, investirci. Devono crederci, però ci deve essere un'unica regia, un unico portale che parla di questo territorio e che in modo efficiente, organizzato, utilizzando tutti gli strumenti che oggi ci sono, a partire dai social network, si fa promozione. Ma detto questo non è ancora sufficiente, perché noi potremo avere una grande capacità di promuovere un prodotto e quando vedi il prodotto rimani deluso. Quindi la cosa peggiore è deludere le aspettative. E allora anche qui serve un lavoro di formazione e di consapevolezza da parte di tutti gli operatori. A partire ovviamente quelli che già hanno una maggiore predisposizione sono quelli delle strutture ricettive alberghieri, perché ospitano. Ma noi dobbiamo fare una grande rete dove tutti in qualche modo assumono un comportamento ospitale. E cioè le cittadine e questa area deve diventare una cittadina ospitale, sia dal punto di vista dei servizi, e quindi qui parliamo delle pubbliche amministrazioni, sia da un punto di vista dell'offerta, sia questa commerciale o della ristorazione. Faccio un esempio molto semplice. Sì, esatto, perché qua proprio si vede che lei ne sta parlando con riferimenti precisi. No, faccio un esempio. Io credo sia estremamente difficile se lei va in un ristorante della Riviera del Brenta o del Miranese trovare un menù in inglese o in francese. Allora, se si vuole essere ospitali, intanto bisogna far comprendere agli ospiti che vengono, anche se sono pochi in una prima fase. Ma vale questo soprattutto per gli operatori, perché nel momento in cui iniziano alcuni processi di questo tipo, significa che sono entrati, diciamo, in una cultura che è quella dell'ospitalità. Ma questo vale anche per i negozi, in generale, nell'immagine complessiva che si vuole fare. Allora, la promozione va fatta, la dobbiamo fare una promozione che sia sotto un'unica regia, ma dall'altra parte dobbiamo lavorare perché la qualità dei servizi e del territorio deve necessariamente essere all'altezza di un'area che vuole avere questa vocazione turistica. Cosa chiede, avete fatto delle indagini, visto che tra l'altro è coinvolto anche CESCOT, vedo in questa iniziativa, quindi si parla anche di ricerche, eccetera, che aspettative avrebbero i potenziali turisti o gli attuali visitatori da quest'area? Perché allora si comincia a parlare di weekend con i negozi aperti, di eventi sul territorio, perché gli eventi abbiamo visto che sono comunque un richiamo incredibile, al di là della festa in sé per sé, di tante cose che però implicano anche un cambiamento di vision e di organizzazione del lavoro stesso. In realtà appunto noi dovremmo mettere ordine a quello che c'è, poi dobbiamo aggiungere anche altre cose ovviamente, però se noi abbiamo la capacità di mettere ordine a tutte le cose che facciamo, se queste cose le comunichiamo in modo adeguato attraverso una programmazione che deve vedere tutti i soggetti coinvolti in modo tale che ci sia un calendario delle iniziative delle terre dei Tiepolo, un calendario delle iniziative della riviera del Brenta che fin dall'inizio dell'anno si possono comunicare. Allora, se noi facciamo questo, abbiamo già fatto un grandissimo passo in avanti su quello che c'è. Poi dobbiamo aggiungere ovviamente dell'altro. Allora, siccome è un territorio che può offrire molto, basta pensare alla riviera del Brenta, alle ville della riviera del Brenta, è difficile trovare un territorio che ha un'offerta come quella della riviera del Brenta. Pensiamo alla ristorazione della riviera del Brenta, se poi ci allarghiamo le terre del Tiepolo, qui sono molti gli aspetti che hanno un valore nell'offerta turistica, a partire dalle cittadine che ci sono, in particolare ovviamente in Mirano e Noale, a tutta la parte paesagistica che favorisce soprattutto un tipo di turismo, quello ciclabile. Ci sono piste che già ci sono. Questo è molto bello, questo è molto interessante. Magari non si conoscono nemmeno. Non si conoscono, io so ad esempio di turisti olandesi in particolare, quelli del nord, che più sono legati a questo tipo di turismo, che conoscono il miranese per questa terra di Tiepolo, per questi aspetti. Quindi noi abbiamo l'enogastronomia, ma diciamo ci sono tantissime cose, dobbiamo solo avere la capacità tutti insieme di promuoverle. Allora un attimo solo, ritorniamo sul messaggio che stavo leggendo prima, se cortesemente della regia lo rimetti in onda, che i nostri telespettatori chiedono che giustamente si leggano i messaggi che vengono inviati. Diceva, abbiamo delle straordinarie opere artistiche che neanche i veneti sanno, ma mai possibile che debba aspettare i fai per scoprire queste opere che sono dietro casa? Filippo da Rosà. Sì. Ma infatti probabilmente adesso... Forse ne abbiamo troppe. Lei sta parlando giustamente delle terre del Tiepolo che uno magari ha un weekend libero, adesso magari si avvicina tra l'altro con quelle festività, ci sono dei ponti, delle occasioni importanti. Uno dice una bella giornata, perché no? È vicino a casa, è raggiungibile, però uno non ci pensa che esista. Magari va a Venezia, il Carpe Diem prende al volo, va in città, va a Verona, anziché magari adesso anche a Treviso che è carina, eccetera, però non pensa che esistano questi luoghi, perché forse non si sanno promuovere opportunamente questo discorso. La promozione è sempre molto difficile perché... È vero, però dobbiamo parlare che ad esempio la Spagna ci ha superato adesso. Sì, sì. Ma noi abbiamo un deficit di comunicazione che è unico, cioè come tante altre cose negative, poi ci sono anche quelle positive di questo nostro paese, ma se solo pensiamo che questo nostro paese è passato al sesto posto, diciamo, nella classifica, significa che non siamo capaci di vendere il nostro paese e tutto quello che ha, perché poi tutti ci riconoscono il patrimonio di tutti i tipi che abbiamo. Noi siamo quelli, come diceva il signore che ha mandato quel messaggio, abbiamo tante cose anche qui da noi, e però ci vuole una regia. Ci vuole qualcosa. E qui nella regia, oltre che trovare un soggetto che emerga, che venga fuori, istituzionale, che svolga questa funzione, però deve cambiare anche la cultura di tanti di noi. perché c'è una cultura in questo nostro paese, ma anche in questa nostra regione, che è quella che io definisco di condominio. Cioè, ognuno è convinto di fare da solo e di saper fare da solo e non capisce che così non va da nessuna parte. Mettere insieme le persone è sempre una fatica che richiede energie straordinarie e però se tutti non capiscono che quella è l'unica strada per valorizzare quello che abbiamo, quella è l'unica, non ce ne sono altre. Cioè, il fatto di stare assieme, fare squadra, come si dice, termine strabusato. Abusato, no. Però questo, oggi diciamo, per non usare un termine ormai, fare sistema, mettersi in rete, questo, utilizzare le nuove tecnologie che ci sono. Però c'è paura, c'è paura perché uno dice, se mi metto in rete, ci rimetto io, che sono più piccolo. Ma questo è limite. Ma questo è limite. Cioè, il fatto di non capire che invece tutti ne tragono un vantaggio, se uno parte dall'idea di mettermi in rete, dentro il sistema, posso rimetterci. Se deve fare l'altra operazione, mettermi dentro, dentro il sistema, ne trarò un vantaggio perché le potenzialità diventeranno più grandi e quindi non lavoreremo solo su quello che esiste, ma su quello che riusciremo a costruire. Infatti, ma secondo lei, voi che avete anche studiato da un po' di tempo, perché questo è la terra dei Tiepoli, un progetto che è in fieri, in cantiere da diverso tempo. Quali sono le azioni da fare gli step, quindi come coordinare il tutto? Perché una volta che magari trovate l'adesione dei sindaci, va bene, va bene, però i sindaci risponderanno io però non ho risorse, tanto per cambiare. Proloco, sì, ma la Regione, questo è il piatto e comunque non è possibile stanziarne altro. Ovvio che da qualche parte delle risorse devono venire fuori, delle idee. Come pensate di organizzare il tutto? Per fare le cose giustamente servono sempre delle risorse e se noi riusciremo a costituire l'organismo di destinazione che la Regione Veneto inderoga diciamo alla normativa attuale farà, ci permetterà di accedere a dei finanziamenti anche europei. E io volevo proprio arrivare a quello, infatti, i finanziamenti europei sono importanti. Però anche qui io ribadisco sempre quel concetto che prima ho cercato o accenato. Prima ancora di accedere a finanziamenti perché questo è un paese dove quando c'è il finanziamento tutti fanno il progetto. Fanno il progetto, portano a casa il finanziamento e poi finisce tutto. È anche un cattivo modo, va bene, di utilizzare le risorse pubbliche siano queste regionali, nazionali e europee. Allora, i progetti servono per creare condizioni nel tempo che quel progetto possa produrre nel tempo degli effetti. Prima di tutto la consapevolezza da parte di tutti. Nel momento in cui noi ci troviamo, vogliamo raggiungere un obiettivo, ci ritroviamo in un progetto e questa è la prima fase, la condivisione del progetto, dove già lì vediamo senza risorse che cosa fa ognuno di noi. Il fatto di arrivare ad esempio, a decidere di fare un calendario all'inizio dell'anno di tutte le manifestazioni e promuoverlo in modo unitario e cioè le risorse che io spendo e lei Elena, lei spende le risorse per la sua manifestazione e io la spendo per il mio, decidiamo che le nostre due iniziative le mettiamo assieme e quelle poche risorse che abbiamo le mettiamo assieme e già questa è una prima cosa, mettere insieme le risorse, mettendo assieme le risorse ottimizziamo anche da un punto di vista della comunicazione i risultati. Poi dobbiamo costruire come dicevo un'area e delle cittadine ospitali. Questo è un altro aspetto importante, vediamo anche come farlo, vediamo anche di descrivere bene per chi non ha ben presente di che cosa stiamo parlando quest'area. Pubblicità, poi torniamo insieme. Grazie. 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 Grazie.